Massimo Boldi, protagonista del primo appuntamento 2017 della Sagra del Cinema, sul palco del Teatro Comunale Mario Spina Castiglion Fiorentino, il cipollino nazionale per la presentazione del libro Le mie tre vite, sua prima biografia scritta a quattro mani con la figlia Marta Boldi. La mia vita è una sintesi scritta da mia figlia Marta, che è l'ultima delle mie tre figlie, dove si racconta quello che mi è capitato nella vita da quando sono nato fino ai nostri giorni. Un'occasione per l'attore di festeggiare 50 anni di carriera con una serata spettacolo tra aneddoti e riflessioni sulla sua lunghissima vicenda artistica. Arezzo TV, vabbè, Arezzo TV, ne posso solamente augurare un felice 2017 e ricordatevi, andate al cinema perché il cinema fa bene alla salute. Ciao cipollini!